Un applauso a questa mamma che ha avuto speranza di venire, è la voglia, regola. Ciao, ciao. Erika. La possiamo riprendere questo bambino e possiamo mettere su un ucciolo. Sei contento che è venuta la mamma a parlare? E' visto, è vero. La mamma ha avuto degli ottimi risultati. Ringrazio tantissimo anche le maestre che sono molto disponibili, soprattutto che sono dei bambini molto piccoli. Lui per esempio ha 14 anni e l'età che ha ha aiutato molte, molte, molte cose. Anche lui è contentissimo, viene volentieri e tante volte quando siamo a casa, io faccio le faccette in casa e lui dice Ma la mamma non mi fa tanto il cuore che voglio scrivere, quindi è molto interessante, sono molto interessato, molto soddisfatto. Grazie. 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 Grazie.